Siete in campeggio, siete al mare, siete in montagna, siete in una baita, avete bisogno di avere della luce ma non avete la corrente? Il vostro Lorettec vi dà la soluzione. Vediamo insieme cos'è contenuto in questa confezione. Ciao e bentornati dal vostro Lorettec. Quanto sarebbe bello portare una luce con sé senza aver bisogno di avere elettricità o di attaccarla alla corrente? Questa è la soluzione, una lampadina che ci permette di avere una luce da portare sempre con noi in vacanza, al mare, in montagna, ovunque noi vogliamo. In questo video vedremo l'unboxing della mia nuova lampadina portatile, ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Prima di cominciare con l'unboxing voglio farvi vedere un attimo la confezione. Gruppo Tera, non si intuisce niente a primo impatto. La andiamo ad aprire così da vedere effettivamente cos'è contenuta nella confezione. Allora, qua abbiamo un cavo micro usb usb, tiriamo fuori, qua abbiamo la nostra bella lampadina, ve la faccio vedere. Attacco grande è 27, qua abbiamo il nostro gancetto da mettere magari nella tenda, da qualche parte, in un ramo, in un albero, se volete in questo caso illuminare. E qui abbiamo la nostra lampadina, tiriamo fuori, eccola qua, qua abbiamo la possibilità di poterla caricare. Inoltre al suo interno è contenuto un power bank in modo tale da poter caricare altri dispositivi, mentre illuminiamo la nostra zona molto bella. Vediamo che cosa c'è ancora nella confezione, ci dovrebbe essere anche il manuale multifunzione LED bulb. Eccolo qua. Allora, qua vi fa vedere che cosa possiamo fare. La possiamo attaccare semplicemente al lampadario se abbiamo la corrente per illuminarla. Si ricarica, inoltre una volta caricata possiamo anche, come vi fa vedere qua nel disegno, alimentare uno smartphone, oppure magari alimentare un computer, la vedo dura perché secondo me la potenza non è abbastanza. Si può caricare inoltre, come vi fa vedere qua, con un pannellino solare o magari con una presa di corrente. Ottimo in quelle situazioni in cui magari avete la corrente per qualche ora, magari lo caricate a casa e poi ve lo portate in campeggio. Mi piace molto la possibilità di avere questo gancetto, questo uncino, così potete appoggiarlo e ancorarlo da qualche parte e qua si avvita la lampadina. Doppia la possibilità, micro usb per caricarla, si carica anche con l'attacco E27 e la porta usb per caricare altri dispositivi. Veramente, veramente non male. Ok. Ok, abbiamo tenuto in carica un po', la accendiamo, premiamo qui e come vedete si illumina. Fa veramente una bella bella luce, a luce fredda. Ottimo. Inoltre è possibile andare a collegare, ad avvitare il suo supporto. Nella parte superiore abbiamo questo tastino che ci permette con un click, vedete, di poter accendere e spegnere, per poi andarla a posizionare dove meglio credete. Ok, considerazioni a caldo. Qualità costruttiva, devo dire, ottima. Mi piacciono molto le plastiche, resistenti, di qualità, una bellissima e fortissima luce fredda. Peccato che non sia dimerabile. Ottima la possibilità di avere questo gancetto per poterla posizionare dove più vi serve. Con il click del tasto la andate ad accendere e il gioco è fatto. Come vedete fa veramente tantissima, tantissima luce. La andate a caricare, come vi dicevo prima, con la micro USB e inoltre potete sfruttarla come power bank per ricaricare altri dispositivi. Ottima, sicuramente in campeggio o in quelle situazioni in cui non avete sempre la corrente. Corrente, veramente un'ottima, ottima cosa. Adesso però voglio sapere la vostra. Utilizzate delle lampadine portatili? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi dalla lampadina portatile. E allora tecchera è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!